Al di là del principio del piacere, otto anni di lavoro e interpretazione di sogni, Freud, che sono sempre io, ci ammetto quattro rotoli di cartigenica rosata, è come se lo finisse antistrappo, ci metto un cornetto rosso contro l'Aiella e poi questa perfetta, questa scimmietta Jung, creata nella grande Germania, Jung, il mio ex collega che voi tutti ricordate di Zurigo, e penso che lo vederò, signore. Io le do tutto per 3.000 lire, questa è una vendita democratica di Sigmund Freud al proletariato italiano.